Voglio dire che la comunicazione è prevenuta la presenza del consigliere Andrano, il quale è precisa che comunica che non potrà essere presente anche il Consiglio per ragioni strettamente personali. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, dato che c'è stato come noto ai consiglieri un'integrazione dell'ordine del giorno, dove su richiesta di sette consiglieri, poi radicata dalla conferenza del gruppo, si è ritenuto qualcuno di convocare di nuovo la seduta sul dibattito politico, atteso diciamo l'esigenza maturata da tutti i consiglieri comunali, metteremo a conto, se siete d'accordo, l'inversione dell'ordine del giorno, con il dibattito politico del primo capo, poi istituzione della risulta del cliente, il programma più oltre, la relazione e il dibattito. Quindi invito i consiglieri a votare su questa proposta l'inversione, se la votazione ha un'unanimità, io chiedo che sia un'unanimità, quindi l'ultima comunicazione preliminare, penso che ci viene comunicato che c'è un'esigenza dovuta ad un gruppo di cittadini che vorrebbero partecipare alla seduta del Consiglio, io chiedo al Consiglio Comunale di votare sulla possibilità di far accendere questi cittadini. Faccio una premessa che tutti quelli che oggi ora già sono in acqua, devono stare tutti diseguti, perché è un problema, quindi chiedo anche agli amici che sono nei migliori così tempi dell'uscita di sicurezza, chiedo anche agli amici di indicare cittadini e sedessi, perché altrimenti non ci renderemo mai conto di quanti posso accedere, quindi in un limite massimo, adesso che noi già abbiamo avuto dei limiti, ma è un limite massimo di un numero che diciamo verrà poi stabilito anche dai regi urbani, se era possibile fare accendere, se il Consiglio è d'accordo, a fare accendere altri cittadini alla seduta. Quindi anche su questo io chiedo se il Consiglio si può esprimere favorevolmente nell'accesso di questi cittadini. Se non ci sono dichiarazioni contrarie, si chiede che il passaggio sia una unità, quindi io chiedo ai vigili di fare entrare un numero di cittadini che si chiede proprio a non portare l'uscita di sicurezza, quindi nei limiti massimo dieci, massimo dieci. Perfetto, quindi penso che abbiamo già sbarchito, diciamo, contatto. Partiamo quindi al primo capo proprio del giorno che è di partito politico. La richiesta è questa che passo a leggere. Allora, per l'insolitare la nuova situazione del 2012 è stato un grande Consiglio unale con l'ultimo giorno di partito politico, relazione destina, che è tale che non si è tenuto nel mancanza di nulla pregata, che allo Stato sussistono ancora la motivazione di posta alla parte della discussione di quale il Consiglio unale con il Consiglio unale, tutto ciò previsto. I sottoscritti Consigli unale chiedono di integrare qualsiasi giorno del Consiglio unale, convocato per il 27 febbraio, con gli strumenti di argomento di partito politico. I primatari sono orsino esposito, salvele del progetto 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 milano tanto di ciò che è il massimo politico. Quindi io direi che possiamo iniziare la distruzione, il video del fatto di un po' per il pregetto, la seduta, massimo di interventi, 15 minuti, ci vuole una prenotazione, cerchiamo di essere ordinati negli interventi quando c'è iniziare il progetto del progetto del progetto del progetto del progetto del progetto il dibattito. Nessuno signore viene a intervenire. Consigliere del prese, ricordo che la direzione di dibattito qui non si prevede come la prima assessora una rilassazione del sindaco, quindi si chiede, consigliere una e intervenire sull'opera. Se qualcuno ne ha l'intervento, altrimenti consigliere che la assessora è la tienda. Allora, consigliere, c'è una richiesta di un Consiglio Comunale, c'è un dibattito che viene da tutta l'indaca, propria posizione nazionale, quindi se qualcuno ci vuole prenotare il consigliere lo chiede. Allora, consigliere.